Il nostro statuto dice 10% di deroghe possibili, ieri si è discusso di una cosa che non è anche un terzo, non è anche il 3% di deroghe, vorrei capire perché si parla di questo aspetto solo per il PD, questo è inaccettabile, siamo gli unici in Europa e in Italia che hanno il meccanismo di deroghe così stringente, per favore a noi questa cosa non la chiedete più e la andate a chiedere a qualche altro, perché su questo si è superato il 6.